e sto bicchiere d'acqua oggi parliamo di lui perché parliamo di lui? perché come voi sapete io inizio i video col bicchiere d'acqua e li finisco col bicchiere d'acqua benissimo ma perché? perché è molto semplice perché per parlare in video occorre la voce bella chiara e umidificata e l'acqua la umidifica secondo perché nei video è buona norma chiudere i cerchi ovvero si iniziano le cose e le si porta a termine non si mette il finale avanti in altri video in altre cose questo è il motivo per cui si inizia motivo tecnico per cui si inizia col bicchiere d'acqua e motivo comunicazionale per cui si finisce col bicchiere d'acqua ma ieri vedo un video del dottor Roberto Cere che vabbè non ha bisogno di presentazione grande comunicatore grande motivatore una personalità nel suo campo anzi direi una delle maggiori personalità bene ho visto che anche lui ha iniziato il video bevendo un bicchiere d'acqua e questo mi ha fatto dire ehi Luca Stella però eh te sono anni che lo fai vai ottimo seconda cosa consiglio del dottor Cere però appunto visto che si iniziano le cose e poi le si finisce di berlo anche alla fine e questo è un consiglio che gli do perché lo ammiro lo stimo condivido il 99,9999 di quello che dice cioè non dico il 100% semplicemente perché me lo voglio tenere così come vezzo e eh ultimo ma non ultimo c'è da dire che lo dico anche perché essendo vissuto per buona parte della mia gioventù in quel diafori ed essendo lui vissuto in quel di quarto giaro diciamo che comunque vicini di quartiere qualche cortesia serve un per cambiare